salve ciao ciao ben rivisti benvenuti di nuovo fabio e il maestro cristian eccoci fisa armonica organetto sempre live però però oggi ho collegato la fisa a un espander quindi col medi andrò ad arrangiare un po il tutto sotto perché altrimenti un po crudo come si dice non per qualcosa per una questione proprio di orecchio orecchio quindi ricordiamo sempre maestro certo di iscrivervi ai nostri canali youtube lui si chiama è il cubano entertainment sì è cubano come dire di intrattenimento però il ragazzo quindi ecco perché e io sono cristiana ruggeri organetto music cliccate sulle nostre paginette trovate bene su youtube iscrivetevi c'è un tasto rosso con scritto iscritto cliccate e rimanete sempre aggiornati sulle nostre proposte musicali ok maestro abbiamo parlato anche abbastanza secondo me è il caso di iniziare facciamo una polchetta un po particolare andiamo verso il tirolo andiamo al tirolo dai 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 che succederà senti che musica si parte che cucchi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.